Intensificare la compartecipazione nella realizzazione dell'obiettivo di sviluppo socioculturale del territorio con le scelte di localizzazione dei poli didattici di ricerca e dei corsi universitari da attivare o potenziare in ragione dei fabbisogni e delle potenzialità rilevate. Punta a questo il protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Bari Aldomoro, la Fondazione Rotary Foundation e Distretto 2120, Puglia e Basilicata del Rotary Internazionale, sottoscritto nella Sala Consiglio del Rettorato dell'Università del Capologo Pugliese. L'accordo è destinato inoltre alla promozione di intese con altri attori pubblici e privati cointeressati, volte anche a garantire agli studenti e ai borsisti servizi adeguati ai loro bisogni, nonché l'utilizzo delle strutture didattiche e scientifiche. Ed è importante perché non è retorico la dizione giovani, ma ha una ricaduta, una ricaduta nel percorso formativo. Le borse di studio messe a disposizione favoriranno così questi percorsi perché si possa incrementare uno sviluppo territoriale. Noi continuiamo ogni anno a distribuire moltissime borse di studio a ragazzi e talvolta abbiamo anche qualche piccolo problema nel reperirli, cioè abbiamo fondi ma non abbiamo studenti. In questo modo la società civile, nell'espressione del Rotary, fa rete con l'Università per mettere a disposizione dei nostri ragazzi e dei nostri borsisti tutta una serie di possibilità e di servizi.